Salve gente da Restre89 e benvenuti in questa terza puntata della serie Total JD. Allora, oggi con il nostro 79-30 andremo a finire di raccogliere l'erba sul campo 30 perché ragazzuoli vedendo il campo 21 di nostra proprietà non usciranno molte balle da poter fasciare per far silato. Essendo che ci serve sia il silato per la relazione mista sia anche per dare solo silato alle nostre guacche, ho deciso di dare l'erba sciolta falciandola dal campo 30. Siamo andati da un vicino a chiedere il permesso di falciarlo, ho detto di sì. Ok, quindi direi di partire subito, finiamo di raccogliere fuori registrazione l'ho falciato, l'ho ranghinato, ho già raccolto la maggior parte dell'erba e ho solo queste due andane corte da raccogliere così da velocizzare un po' la cosa. Quindi andiamo a finire, poi andremo subito a scaricare l'erba dalle nostre guacche, se ne rimarrà la porteremo o al mix master o faremo un piccolo deposito vicino al mucchietto di paglia che avevamo avanzato. Allora intanto siamo arrivati a 20.000 litri, sì circa. Ok, spegniamo tutto e andiamo verso casa. Questa puntata sarà con qualche taglio qua e là perché voglio farvi vedere più di un lavoro, volevo farvi vedere sì anche il trasporto balle e tutto, ma cominciare anche a fare un po' di trebbiatura. Perché non voglio fare due puntate proprio di sfalcio e cose varie o in caso dopo vediamo come siamo presi. Allora intanto andiamo a scaricare, ho raccolto con l'autocaricante perché tanto la mangiatoia dell'erba dalle guacche è all'esterno e quindi riesco a scaricare. Non come l'altra volta la paglia che non passavamo con il nostro autocaricante. Dovremmo abbassare il tettuccio, anzi alzare più che altro il portone. Poi bisogna prenderle larghe, se no col cavolo che passiamo. Ok, rallentiamo un po' così da riuscire a spoltare. Forse questa l'ho presa anche un po' troppo larga. Facciamo anche un po' di visuale interna, visto che l'avete anche richiesto ragazzi. Beh, una puntata intera, on board, non riuscirei a farla. Sono abituato a fare i lavori all'esterno e quindi, anche perché le stradine qui sono strette, non si riesce bene a vedere dove si va. Quindi per ora facciamo solo qualche pezzettino. Quindi andiamo a scaricare, scendiamo così vediamo lo scarico. Tra l'altro stiamo buttando fuori tutto, ma vabbè. Vediamo un po' se lo prende tutto. Ci stiamo riempiendo d'erba? Allora, in teoria il carro è vuoto. Direi ottimo. Allora, intanto lo lasciamo qua. Passiamo al nostro caro bel 6810. Va che bellino che è. Bellino. Tra l'altro mi avete detto di lasciargli le ruote strette. Secondo me è il top. Allora, passiamo subito a ranghinare per poi passare ad imballare e andiamo ad acquistare il nostro fasciatore per balle. Questo che non l'ho mai usato praticamente su Farmy Simulator è anche ora che lo uso. Poi andremo a vedere quale ho scelto. Che praticamente è quello che mi avete consigliato in tutti. Però ho preso quello reschinnato perché ci sta. Ci sta, ci sta. E poi vediamo il motivo perché ci sta. Ok, vediamo di fare una cosa rapida. Come sempre ragazzuoli ringrazio per tutte le visual e i like che lasciate perché sta serie sta veramente andando alla grande. Sono felice che stia andando bene. E quindi non posso fare altro che ringraziarvi. Ok, allora adesso partiamo da qui. Riusciamo a girarci un attimo. Ok. Attacchiamo. Si riparte. Ranguinatore non so se prendere quello più piccolino perché visto che i campi comunque non sono grandissimi. Vabbè che se no no. Possiamo tenere anche questo perché andremo ad acquistare solo i campi d'erba, quelli più grandi. E se no quelli piccoli poi non ci giriamo più né con ranguinatore né con l'imballatrice o l'autocaricante. Ok, dai. Allora. Abbiamo quasi fatto anche questo. Quasi quasi andiamo ad unirle. Ok. Dobbiamo andare meglio a raccoglierle dopo. Ripartiamo da qua. Io affetto. Vabbè ragazzi, io direi di staccare un attimino che così intanto finisco. Ci ritroviamo tra poco verso la fine anche dell'imballatura. Così faccio meno stacchi possibili. Ah, tra poco. Allora ragazzuoli, eccoci qua. Stiamo facendo le ultime andane. La nostra bella imballatrice quadra della John Deere. Che per chi fosse interessato la trovate in un pack insieme alla Crone. Praticamente è una pressatrice quadra reschinata John Deere e reschinata Crone. Comunque è molto bella anche perché ci sono i vari movimenti di pressatura come vedete. Non è affatto male. che lo scarico balle, vedete qua. Adesso dovrebbe... Vabbè, come vedete c'ha qualche problemino, in senso che si vede la balla che trema un po'. Però... Beh, piace. Secondo me è fatta molto bene. Ecco la balla che è uscita. L'hanno sparata fuori. E ci sta, ci sta qua. Perché come avevo già detto, quella... La rotopressa, essendo in salita e discesa, non è il top. Perché le balle rotolerebbero in giro per i campi. Ora ho optato per questa. Ok, adesso facciamo questa. E poi questa qua a fianco che è l'ultimissima. E poi andiamo a fare l'acquisto del plasciatore. Quindi finiamo. Ho già preparato il John Deere piccolino. Così da non far tagli. Si parte subito a bomba. E poi trasportiamo a casa. Come vedete non abbiamo fatto tante balle, come avevo già detto prima. Ne abbiamo fatte esattamente. Intanto abbiamo finito. Ok. Una, due, tre, tre, quattro. Quattro più questa che scarichiamo. Spegniamo e scarichiamo. Cinque con questa. Quindi per un totale di ventimila litri praticamente di scilato uscirà. Ora ho optato per falciare l'altro campo, come detto prima. Ok, passiamo. Eccolo qua. Andiamo subito allo shop. Andiamo a vedere tecnologie per la balle. E abbiamo qui il nostro McHale 998 per balle quadre. Praticamente è quello che mi avete consigliato voi. Però quello che avete consigliato voi era quello rosso. Io ho trovato questo qua che è reskinato giusto per la nostra serie. Ovvero colori John Deere. Andiamo subito a collegarlo e partiamo velocissimi. Tra l'altro siamo rimasti quasi senza soldi ormai. Siamo a 56.000 euro. Sì, se stai fermo attacco io ero venuto di qua per attaccarti di qua e tu ti sei spostato di là. Ok. Quindi gira, gira. Ok, perfetto. Muoversi, muoversi. La fasciatura, come sapete, ci mette un po' di tempo. Quindi magari fasceremo una barra due balle e poi finisco fuori registrazione. Qui abbiamo l'entrata. Ok, allora ragazzi. Come vedete. Con i rotoli di estensibile o nylon. Non è fatto praticamente malissimo. Direi che è ottima. Quindi andiamo subito a rispiegarla. Anzi, metterla in modalità lavorazione. Vedete il nastro che si abbassa. E il nylon che si prepara ad avvolgere. Noi andiamo qua così. Tac. Raccoglie la balla. Alza e inizia a fasciarla. Appare già tutta fasciata ma non importa. Il nostro scopo era di fare balle fasciate. E questo abbiamo trovato per quelle quadre. Mille, milla, milla giri. Ok, ragazzi. Ha finito. Quindi tasto O e scarica la nostra balla. Vedete. Track. E ciao. A posto, ragazzuoli. Cominciamo a fasciarne un'altra. Magari questa di qua. Le portiamo tutte magari vicine. Pow. Che tuonate ho tirato. Le mettiamo qua così per lo scarico. Ok, ragazzuoli. Faccio un altro stacco. Così ci ritroviamo al carico balle. E al riempimento del mix. Mixi Station. Ah, tra poco. Allora, ragazzi. Siamo arrivati. Come carrettino. Come avevo già mostrato. Avevo scelto questo fliegel. Per il trasporto di balle. O veicoli. O mezzi. O cose varie. Andiamo subito a vedere. Di aprire. La sponda. Sinistra. E quella dietro. Ok. Ho sbagliato tasto. Ha finito di... Sì. Ha finito di... Quanti sbagli. Ok. Allora. Andiamo a dispiegare le nostre forche. Non mettiamo la modalità automatica. Sperando che queste forche qua riescano a prendere su le balle fasciate. Vediamo subito. No. No. No, no, no. Sì. Ti abbiamo fatta. Le fasciamo dopo. Le buchiamo. Siamo veramente degli intelligent. Ok. Andiamo subito a carricarle. Nel nostro carrettino. Non so quante ce ne stiano su. Speriamo. Sì. Ci stanno tutte. Ok. Allora. Abbasciamo. Da. Alziamo un po'. Portiamo avanti. No. E' avanti. Vabbè. Poi spingiamo avanti. Con la seconda. Andiamo a recuperare la seconda balla. Ok. Un altro presa su. No storta. Di più. Vediamo di riuscire a sistemarla. Qua. Là. Troppo in alto sto guardando. Ok. Spingi. E dai. No. Da. Perfetto. In teoria poi dovrebbero chiudersi. Dobbiamo prendere questa qua. Dai. Dai. Ok. Dietro non ci sta. Quindi quella dopo. L'ultima balla dobbiamo metterla sopra. A queste. Eeeh. Sposta tutto. Vabbè. Vabbè. Vediamo. Interizzata sempre. Spingendo. Quindi la sponda dietro potevamo anche lasciarla chiusa. Ma vabbè. Chiudiamo dopo. Ok. Ok. Penultimo. Balla. Comunque ragazzi non è molto reale che ora siano già silato. Però noi essendo che abbiamo bisogno di silato. Andiamo subito a usarla senza far fermentare l'erba. Tocca a far così. E quindi. E' persa. Troppo indietro. Troppo veloce. Sono andato. Ok. Allora. Questa qua la carichiamo sopra. Non mi ricordo più se questo rimorchio abbia il blocco del carico o no. Ma in teoria sì. Aveva comunque. Sì già. Dai. Dai. Boh. Ok. Chiudiamo le nostre forche. Abbassiamo. Ok. Ottimo. Andiamo a collegare. Chissà che non salti tutto per aria. Andiamo. Perfetto. Andiamo quindi a chiudere quella dietro. Chiudere quella di lato. E non c'è l'attacco del carico. Non importa perché tanto comunque le sponde sono più alte della prima balla. Quindi caricandone una sopra non dovrebbe avere problemi. Ok. Io direi di andare verso casa. Andiamo subito a metterle sia nel carro miscelatore sia nel mix station. show. Guardate come saltano. Spero vivamente. Dai stai 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 stai. E' appunto sto per dire. Spero vivamente che quella balla lì non salti per aria. Ok. Forse questo carrettino non è molto adatto a queste cose. Mi sembrava che avesse l'attacco. Invece no. E' vabbè. Andiamo un po' calma. Andiamo piano. Ecco. Si è riposizionata. No. Sbagliato a strada. Sbagliato a strada. Sbagliato a strada. Andiamo di qua. Le nostre piecore. Le nostre guacche. Andiamo piano. Curva. 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 Gira. Gira. Curva. Curva. No. Meglio guardare da fuori va. Che almeno vediamo dove va la balla. Ora ragazzi io direi di scaricare prima qualche balla. e poi andare a fare il tutto che ci è arrivato. Abbiamo già preparato il carromiscelatore. La. Sette. Ok. No. Ok. Andiamo di spiegare. Quindi G. Oh. Tu 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 tu. Direi di ricaricarne. 4, 8, 12. Sì. 12.000 litri. Li buttiamo dentro sulla. Mixmaster. Che ci li ha già presi così. Ha risucchiato proprio. E è sparita. Ok. Quindi direi di fare una cosa tattica va. Per velocizzare la cosa. Facciamo così. Non ci arrivo. Sì che ci arrivo. Ok. Non posso prendere su più di due al colpo. E allora? Eh fatico quello automatico. No. Così impari. Non hai voluto farmele prendere su? Mi arrangio. Vediamo. Z. Perfetto. Qua facciamo sempre automatico ragazzi. Così velocizziamo un attimo. Ok. Quindi sempre tasto Z. Andiamo più avanti. Abbassiamo un po'. No. Può rimanere su. Eh? L'off. Ok. Adesso qua parcheggiamo a due secondini. Alberi. Alberi. Intanto la nostra Mix Master ragazzi è partita. Eh. Vediamo. Ha già fatto duemila. Ottimo. Ottimo. Allora intanto andiamo a portare il scilato. Poi facciamo un piccolo stacco. Che così portiamo la razione mista. Ma rimando un po' avanti il tempo così da far almeno almeno un 8000 litri anche di razione mista. E poi siamo a posto. Abbiamo già preparato lì la trebbia. Perfetto. Eccoci qua. Perfetto controllo. Mamma mia. Ok. Entriamo. Le nostre guacche. E andiamo a scaricare. Testa a sinistra. Sinistra. Dai. Ok ragazzuoli. Dai facciamo un piccolo stacco e ci ritroviamo tra poco. Allora ragazzi abbiamo andato avanti di più o meno mezza oretta. E tra l'altro è venuto su un negrone della madonna. Guardate che roba. 16000 litri pronti come vedete. Abbiamo già collegato il rimorchio perché sapete che il caro miscelatore di default non prende la razione mista dalla mix master. Quindi andiamo in retro con il nostro rimorchietto. Se ce la facciamo. Abbiamo. Back. Ecco che lo scarica. E andiamo subito a portarla alle nostre guacche. Tra l'altro se non ricordo male dovrebbe stare tutto dentro su sto rimorchio. I 16000 litri. Speriamo. Ok. Perfetto. Andiamo a portare. Facciamo vista interna. Vediamo tutte le curve belle larghe. Così da non incastrarci con il rimorchio. Vai piano. Ok. Perfetto. Adesso rallentiamo che l'entrata qua è critica. Andiamo larga. Ottimo. Vediamo. Passi. Ah forse sono stato. Eh infatti sono stato troppo a forza sinistra. Perfetto. Ok. Scarichiamo. Ok. Adesso non si riempie niente. Adesso vediamo un attimo ragazzuoli come siamo messi con le nostre guacche. Ci manca praticamente solo l'acqua. Io direi di andare a prenderla immediatamente. Il nostro rimorchietto lo stacchiamo un attimo qua. E andiamo a prendere la botte per l'acqua. Che mi ero anche dimenticato. Quindi mi sa che la trebbiatura la faremo nella prossima puntata ragazzuoli. Oggi abbiamo fatto ancora alimentazione. Ma almeno adesso abbiamo fatto. Abbiamo concluso praticamente tutto. Eccoci qua. Andiamo a collegare la nostra botte. Ok. L'abbiamo già caricata. Inizierei anche dalle pecore. Visto che siamo qua. Ti apri o devo scendere? Devo scendere. Speriamo che si apra da... Vediamo. Ah! Ci sposta il trattore! Ah! Porca miseria. Ok. Beh. Lasciamo un attimo aperto il nostro. Cancelletto. Vediamo l'acqua. 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 Qua scaricata laggiù. Quindi andiamo su di qua. Scendendo un po' un grandicella sta botte per il tuo trattore. No dai. Ok. Ok. Che saltone. Vediamo se lo scarica. Ok ragazzi. Vediamo anche se si riempie qui. Nessuna animazione? Niente? Vabbè. Non si è visto niente. Misteri. Ok dai. Non importa. Andiamo a riempire di nuovo la nostra botte. E andiamo a portare l'acqua anche alle nostre guacche. E forse non serve neanche entrare sul precinto. Ah. Stai andando di scappare. No. Stai là. Stai là. Chiudiamo va. Prima che scappi. Là. Ok. Intanto l'acqua la prendiamo qua dal pozzo ragazzi. Poi andremo a vedere se... Eh... Magari... Al fiume riusciamo a prenderla o no. Intanto la prendiamo da qua. Quindi. Tasto R. Direi di portare solo una bottona qua e basta. 10.000 litri per un po'. Gli basteranno penso. Come sapete ho detto che la portavamo su giusto... Cioè. Riempivamo e mangiatoie e cose varie giusto per tirare avanti. Allora vediamo. Dovrebbe essere... Eccola lì. Forse riusciamo a beccare il trigger di scarico. Anche senza dover entrare. Stiamo vicino alla recensione. Vediamo un po'. Infatti ragazzuoli ce l'abbiamo fatta. Bene bene. Qua intanto si ciullerà tutti i litri d'acqua. Ok. Ottimo ragazzuoli. Andiamo a vedere. Acqua. A 9.000... Un litro l'abbiamo faccio per strada. 9.999 litri. Direi che è ottimo. E... Ok. Galine non ne abbiamo. Le pecore anche loro sono a posto. E pig non ne abbiamo. Quindi direi che i nostri animaletti sono a posto. Allora ragazzi. Tre viatture la cominciamo nella prossima puntata. Spero che anche questa puntata vi sia piaciuta. E abbiamo finito di fare la finezione. Abbiamo finito di fare tutto il necessario per i nostri animali. Ragazzuoli come sempre lasciate tanti like. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete. E noi ci ritroviamo nel prossimo episodio. Ciao gente. Ciao gente.